ma ciao amici benvenuti in questo nuovo video io sono francesco e oggi finalmente andremo a recensire questo adattatore usb wireless della auto abc modello mini i box perché dico finalmente perché ne ho altri due ragazzi qua dietro da recensire ma come sapete chi mi segue nella mia pagina facebook chioccio la fanca skype non avevo un autorato idoneo per andare a recensire questi moduli ho dovuto acquistare su aliexpress un super autoradio al costo di 30 euro che mi vada a fare questo lavoro sì ragazzi un autoradio pagato 30 euro che ha la connessione cablata per android auto ed apple carplay requisito necessario per poter far funzionare questi moduli torniamo a noi questo modulo usb wireless non è un modulo normale ma al suo interno ha un sistema operativo con android 11 spinto da un processore qualcomm 22 90 un quad corre con 64 bit in più a 2 giga di ram e 16 giga di rom espandibili tramite la schedina sd fino a 256 gigabyte che significa significa che possiamo mettere al suo interno audio video tutto quello che vi pare e questo modulo andrà a riprodurre il tutto direttamente sul vostro autoradio a mio avviso prodotti che sono semplici da utilizzare semplici da configurare e semplici da installare sono già prodotti vincenti speriamo che questo prodotto abbia questi requisiti perché prodotti che sono difficili da installare difficile da configurare difficile da utilizzare secondo me una volta acquistati non utilizziamo più perché ci scassiamo le palle ragazzi perché troppo complicato perché non ci va ci dobbiamo perdere tempo magari siamo poco avvezzi è meglio un prodotto semplice ma funzionale che magari costa anche di meno rispetto a prodotti sofisticati ma che comunque possiamo andare a utilizzare in maniera molto semplice quotidianamente siete pronti di meno salto mortale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nell'apposito slot, presa USB tipo C, i due led di stato, lo slot per SD, plastica e sotto abbiamo questa base in alluminio che serve per dissipare il calore che emana questo Snapdragon. Grazie a tutti. Allora, diamo uno sguardo veloce alle impostazioni. Wi-Fi. Abbiamo la possibilità di connettere una rete, sia all'hotspot del nostro telefono, una rete Wi-Fi. Modalità aereo, hotspot, risparmio dati, eccetera. Insomma, tutte le impostazioni che si trovano di solito su un car tablet. Bluetooth. Possiamo accoppiare un dispositivo, vedere i vari menu, connessione automatica, carplay wireless, linguaggio, italiano, inglese, francese, insomma tutte le lingue presenti di solito su ogni dispositivo. Info, applicazioni, tutte le applicazioni installate o quelle che si andranno ad installare successivamente. Data e ora, fuso orario, rete, impostazioni internazionali, informazioni, dispositivi connessi, app e notifiche, display, audio, spazio di archiviazione, display, colori, dimensione carattere, dimensione display, sfondo. Adesso, andiamo a vedere nella galleria o nella SD inserita nel dispositivo. Sfondi. Imposta sfondo. Sempre in questo menu, dove ci sono tutte le icone, tutte le applicazioni che andiamo a installare su questo modulo della cara ABC, abbiamo anche telefono e prodotto, come ho fatto vedere prima, e qui possiamo andare, sia ad utilizzare il tansierino, che non si vede una beata ceppa, perché chiaro su chiaro, ragazzi, è difficile proprio andare a distinguere i numeri, ma comunque vi posso assicurare che ci sono, andare a riprodurre la musica che ascoltiamo sul nostro telefonino, quindi le previste dedicate. Dobbiamo essere ovviamente collegati tramite bluetooth, e qui abbiamo, come ho fatto vedere prima, le impostazioni, i menu, e qui vedete Franci che è il mio telefono, vedete collegata. Poi abbiamo tutte le chiamate in entrata e in uscita che sono state fatte, ed abbiamo la rubrica, perché va a sincronizzare anche la nostra rubrica del telefono. E da qui torniamo indietro. Galleria va a riprodurre tutti i file video e foto che abbiamo all'interno del nostro modulo, o nella schedina SD o nella memoria interna. Play Store, ovviamente è il Play Store, per andare a scaricare le applicazioni dovete accedere con il vostro account di Google. Poi abbiamo il gestore dei file, per andare a vedere all'interno della pennetta o della SD cosa c'è. Abbiamo Netflix, ovviamente per accedere ci vuole l'account per entrare, quindi le credenziali per accedere all'applicazione. Accedi, io in questo caso non ho nulla, quindi torniamo indietro. E poi abbiamo WLC. Questa applicazione ci consente di vedere video. E poi abbiamo YouTube. Torniamo indietro. E poi abbiamo YouTube. Andiamo a vedere il mio ultimo video. Guidami a casa. Navigazione verso casa. Nel dispositivo abbiamo anche la possibilità di avere, oltre al menu rapido, anche la possibilità di avere la barra di stato superiore. Vedete dove c'è Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo, hotspot e si può andare direttamente sulle impostazioni. Ragazzi, vi ricordo che per utilizzare queste applicazioni come YouTube o Netflix, questo modulo della cara ABC ha bisogno di una connessione Wi-Fi, una connessione Internet. O la diamo tramite hotspot del nostro telefonino, quando siamo in autovettura. O se utilizzate questo modulo altrove, come sto facendo io, abbiamo la possibilità di collegare il Wi-Fi di casa a questo modulo. Quindi ecco perché funzionano tutte le applicazioni che necessitano di Internet. Se andiamo a collegare tramite questa applicazione, Speedplay, andiamo a collegare in questo caso Android Auto al mio telefonino. Ok? Si è collegato. In questo caso la connessione Internet per le varie applicazioni, per il navigatore, per le applicazioni che abbiamo installate all'interno del nostro telefono, quelle compatibili sempre ovviamente, queste applicazioni utilizzano la connessione del nostro telefonino. In questo caso andiamo a utilizzare Spotify, quindi le nostre playlist personali che abbiamo sul nostro telefono. Anche se questa vita, un senso non ce l'ha. Torniamo indietro. Per uscire da Android Auto basta andare sulle applicazioni e cliccare su Esci. Per collegare il nostro Apple dobbiamo sempre utilizzare questa applicazione, Speedplay. Una volta che siamo collegati tramite il Bluetooth, perché ci vuole la connessione tramite il Bluetooth, va a riconoscere il Apple CarPlay wireless. Quindi clicchiamo sempre qui, ed ecco che ci siamo connessi tramite wireless al nostro Apple CarPlay. Anche qui abbiamo Wezer schermo intero, che possiamo utilizzare con Apple CarPlay. Abbiamo la possibilità di utilizzare Spotify, anche in questo caso le playlist che abbiamo salvato sul nostro telefonino. Andiamo a riprodurre il mitico Pasco. Tornare a tutte le applicazioni e andare a schermo condiviso. Quindi anche qui possiamo navigare e ascoltare la musica. Possiamo anche qui utilizzare Siri per chiedere qualsiasi cosa. Chiama Samuele. Purtroppo non vedo Samuele, Samuele, tra i tuoi contatti. Chi vuoi chiamare? Chiama casa. Chiamo casa. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il suo telefonino non è abilitato alla chiamata richiesta. Ok. Per uscire dobbiamo andare sulle impostazioni e cliccare su Auto. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto insieme le caratteristiche e le potenzialità di questo mini iBox della Cara BC. Insomma, come vi dicevo all'inizio, il mio giudizio poteva confermare o ribaltare la situazione. Nel senso che i tre requisiti per dire che questo è un prodotto vincente, qual erano? Facilità di installazione, facilità di configurazione e facilità di utilizzo. E devo dire che il mio giudizio ha confermato la cosa. Però, se da una parte è semplice installarlo, è semplice utilizzarlo perché avete visto si collega lo spinotto, nel giro di 40 secondi si avvia, abbiamo il sistema operativo e siamo a posto. E quindi il telefono lo possiamo tenere in tasca se ci vogliamo collegare tramite Android Auto, tipo CarPlay e vogliamo utilizzare la sola connessione Wi-Fi data dall'hot spot del telefono per poter utilizzare questo modulo come un vero e proprio CarTablet, tra virgolette. Se questo è fantastico, dall'altra parte però, questo modulo sicuramente è idoneo per chi non ha fretta. Se siete dei tipi calmi, che vi sedete in macchina, accendete l'auto, collegate il fregno, magari quando siete fermi e volete vedere qualche video di YouTube, visto che me ne hai fatto due palle così con questo YouTube, qua c'è una possibilità di andarvelo a vedere. Però, sempre con calma, quindi, ai suoi tempi ragazzi, ci vuole un pochettino, ci vuole un po' per aprire l'applicazione, ci vuole un po', insomma, è un po' lentino. Fa tutto, per carità, fa tutto, ma è un po' lentino. Altra cosa però, che anche avendo il Play Store, quindi andare sul Play Store per scaricare e installare le applicazioni, non tutte le applicazioni sono compatibili, perché volevo scaricare Maps o Sigik o altro e purtroppo dice che non sono compatibili con il dispositivo in uso. Quindi, sì, c'è il Play Store, possiamo scaricare la maggior parte delle applicazioni, ma non tutte. Pensavo fosse il contrario all'inizio, quando ho detto che c'è il Play Store, si possono scaricare, ma durante la recensione mi sono reso conto che non tutte le applicazioni sono compatibili con il dispositivo che andiamo a installare. Quindi, anche questa è una piccola limitazione. Poi, come al solito, nella descrizione del video vi ricordo che trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le specifiche. Se riesco, vi lascio anche un codice sconto che non guasta mai. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, ma soprattutto attivate la campanellina per essere informati quando andrò a pubblicare nuovi ed entusiasmanti contenuti. Ciao, bene, alla prossima. Un bacione. Salvevi bene.